Ciao ragazzi e benvenuti su Casture Drums. Oggi vi voglio spiegare un groove super 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 famoso e cioè, l'avete già visto dal titolo, voglio spiegarvi il groove di Good Times Bad Times dei Led Zeppelin suonato dal grandissimo John Bonham. Vi voglio spiegare questo groove perché ha tanti piccoli segretini che non sono così semplici da capire subito e soprattutto se non si suona in un certo modo la resa non è la stessa di questo groove. Quindi ci sono alcuni punti fondamentali che oggi andremo a vedere nello specifico così che poi possiate suonare questo groove in tranquillità perché secondo me questo è uno dei groove più fighi che ci siano in assoluto per una serie di cose che andiamo subito a vedere. Quindi sto parlando del groove iniziale di Good Times Bad Times all'inizio fa pa pa, ti 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 pa pa eccetera. Quella parte lì è abbastanza tra virgolette semplice comunque non c'è troppo bisogno di spiegarla. Nella parte dopo quando incomincia a cantare lì parte questo groove, questi groove perché non è uno solo ma sono più groove diversi e quindi andiamo a vederli nello specifico. Quindi faccio dire anzi prima vi dico di iscrivervi al canale così se vi va iscrivetevi al canale e fatemi sapere se vi piacciono queste tipologie di video se vi piacciono queste tipologie mettete un mi piace e mettete già un commento già che ci siete in cui mi chiedete un groove, un feel o qualcosa che vi piace. Direi che possiamo andare. Mando la sigla e partiamo. Allora ecco che cosa vedremo oggi. Per prima cosa vi faccio sentire il groove completo così che possiate riconoscerlo più che altro se magari ancora non avete capito di cosa voglio parlarvi e poi così ve lo spiego pezzo per pezzo. Ok, il groove come potete sentire può sembrare semplice ma ha un sacco di insidie all'interno. Allora per prima cosa il groove che ho suonato adesso è composto da tre groove diversi che oggi chiameremo con groove A, groove B e groove C. In realtà il groove B avrà poi una piccola variante quindi faremo groove A, groove B 1 e groove B 2. Adesso vi spiego bene come funziona. Per prima cosa partiamo con il groove A cioè il primo groove che viene suonato. Il primo groove anzi. Prima partiamo con il feel. Già che ci siamo vi faccio sentire anche il feel. Allora il feel è un feel da quattro quarti che praticamente si divide in due parti. Per prima cosa c'è il pam pam che sono ottavi. 3, 4... Dopo ci sarà una pausa poi c'è il pdf con tutto spiegato tranquilli e poi il feel sarà tutto a mani alternate partendo da un tom. Io di solito parto con il tom 2 perché ha il suono un po' più grave quindi... E poi nella parte dopo ci saranno questi accenti. Quindi tutto insieme... Dopo aver fatto questo passiamo veramente al groove A. Il groove A ha due crash iniziali quindi su due ottavi e poi la cosa importante che ecco questo è il primo trucchetto diciamo. Molti fanno tutti i groove sul charleston, sulla campana del ride. Raga è sul campanaccio cioè questo. Deve essere il nostro charleston. Non è charleston non è ride. Campanaccio. In questo groove il campanaccio fa ottavi normalissimi. Quindi dopo i due crash il campanaccio fa tutti ottavi. Intanto cazza e rullante fanno questo schema qua. 3, 4... Fod... Tu, tu, papa. Tu, 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 papa. Quindi proviamo a mettere tutto insieme. secondo trucchetto ragazzi è un trucco che molti batteristi famosi ce l'hanno in comune John Bonham mi viene in mente Ringo ad esempio anche che è una cosa che non è che loro abbiano studiato ma ce l'hanno proprio di indole così in pratica quando si pensano i groove come questo sono tutti con tempo binario quindi ottavi sedicesimi eccetera eccetera ma per riuscire a farlo simile o per avvicinarsi il più possibile bisogna cercare di sciaffolizzare un po' il tutto quindi se io lo suono dritto 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 è giusto ma è un po' asettico cioè rimane un po' lì invece se noi cerchiamo di sciaffolizzarlo un po' non troppo non deve essere poi sciaffoli così è un'altra roba proprio ma sciaffolizzarlo un pochettino quindi cosa vuol dire vuol dire allargare un po' le note che suoniamo di solito quindi se una nota di solito la suoniamo ta 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 cercare ogni due noti di allargare un po' quindi andare verso il ta 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 vedete che così è un pochettino più sciaffol rimane un po' più aria tra le note rotola un po' di più e questo è il groove A dopo aver fatto questo passiamo al groove B terzo trucchetto che troppa poca gente conosce cioè in questo caso nel groove B cioè nel groove dopo la in pratica non abbiamo crash e abbiamo il campanaccio che non suona più solo in ottavi ma fa questa figura qua so che non sembra ma è proprio così ascoltate bene la canzone ascoltate l'originale che vi lascio qui sotto in descrizione e sentite bene quello che fa la cassa rollante e i tom perché ci sono anche i tom in questo caso fanno andiamo a mettere insieme le due cose come potete sentire qui la parte sciaffolizzata è più che altro del campanaccio quindi un filo sciaffolizzato sempre questo era il groove B1 poi vi spiego perché B2 perché c'è una piccola variazione adesso andando a mettere insieme groove A e groove B dobbiamo anche inserire un colpo di cassa in più alla fine nell'ultimo sedicesimo del groove A non ve l'avevo ancora detto perché se no rischiavo di fuorviare un po' il tutto mettiamolo per incollare praticamente groove A e groove B adesso groove C questa volta il campanaccio suona di nuovo tutti gli ottavi come nel groove A abbiamo un solo crash all'inizio della battuta quindi e qui c'è la parte con i doppi di cassa veloci ho già fatto un video sui colpi di cassa veloci ve lo lascio qui in una scheda e in pratica cassa e rollante fanno questo ultimo groove e poi li mettiamo insieme e capiamo come bisogna metterli uno dopo l'altro variazione del groove B cioè il B2 in pratica l'unica cosa che varia è che c'è un crash all'inizio quindi se prima era questo adesso sarà la stessa cosa ma con un crash iniziale dopo che abbiamo fatto tutti questi groove questi tre groove più uno perché c'è una variazione che poi è una cavolata ma è giusto saperla andiamo a mettere questi groove uno dopo l'altro è abbastanza semplice si usa groove A e groove B1 quello senza crash poi si rifà la stessa cosa quindi A B1 A B1 dopo faremo C B2 quindi con il crash e poi di nuovo C B2 in tutto quindi saranno otto battute A B1 A B1 C B2 C B2 quindi con questo ragazzo ragazzo spero di essere stato utile spero questo video vi sia piaciuto fatemelo sapere qui sotto nei commenti fatemi sapere se volete altri video simili fatemeli sapere qui sotto scrivetemi dei groove super famosi che però non capite vorreste sapere ce ne sono già tanti sul canale ma mi piace parlare di groove e andare a sviscerarli in questo modo quindi fatemi sapere detto questo io vi ricorderei ancora di iscrivervi al canale se vi va ovviamente però mi supportate tantissimo iscrivendovi al canale quindi fatelo se vi va io vi ricordo che c'è il pdf scaricabile qui sotto e vi ricordo che ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti